La crisi fra Russia e Ucraina è arrivata a un punto molto delicato. Da anni la Russia chiede ai paesi occidentali un impegno formale perché si è impedito a Ucraina e Georgia l'ingresso nella Nato. Questa richiesta è sempre stata rifiutata, non perché l'ingresso di questi paesi nella Nato sia all'ordine del giorno, ma perché accettare la richiesta significherebbe violare alcuni principi di diritto internazionale e la sovranità di questi paesi. Ultimamente però la posizione russa si è indurita e diventata molto aggressiva, non solo richiedendo il congelamento di qualsiasi cooperazione militare dei paesi occidentali con l'Ucraina, ma chiedendo addirittura il ritiro della presenza Nato da Romania e Bulgaria, che sono nella Nato fin dal 2004. Inoltre la Russia sta esercitando una pressione militare crescente ai confini dell'Ucraina con il chiaro obiettivo di provocare un cambio di regime a Kiev. Questa situazione crea per gli europei un costo immediato ed un rischio per il futuro. Il costo immediato deriva dall'impennata dei prezzi dei rifornimenti energetici, particolarmente pesante per paesi che, come il nostro, dipendono in larga misura dalle forniture di gas. Il rischio futuro dipende dalla ingente mobilitazione e crescente mobilitazione militare operata dalla Russia ai confini con l'Ucraina, che mette Putin in una condizione difficile di dover ottenere a tutti i costi qualche risultato con questa pressione o altrimenti ricorrere all'intervento militare. Questo dipende dal fatto che dietro la posizione russa non c'è solo la preoccupazione dichiarata per la difesa e la tutela dei propri confini. Ma c'è anche l'innata propensione imperiale, che è la caratteristica russa, dall'impero zarista all'Unione Sovietica, al regime di Putin di oggi, impegnato come è a cercare di ripristinare un controllo totale sulle aree e sui paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica ed oggi sono indipendenti. Di fronte a questo l'Europa e gli Stati Uniti devono rispondere in maniera ferma e unitaria. Da una parte proponendo di riaprire in maniera seria i canali di comunicazione, i meccanismi di dialogo, come ha fatto oggi Blinken nell'incontro con Lavrov a Ginevra. Dall'altra però facendo capire in maniera inequivocabile che un'aggressione militare di qualsiasi tipo all'Ucraina comporterebbe delle sanzioni, come si è detto, senza precedenti. E per il futuro l'Europa dovrebbe finalmente prendere in seria considerazione la necessità di dotarsi di una capacità di difesa autonoma per essere in grado in futuro di gestire crisi come questa anche in assenza degli Stati Uniti che potrebbero essere disinteressati perché coinvolti in altre crisi, in altre aree geopolitiche nella loro competizione globale con la Cina. Grazie. Grazie.